Siamo qui per comunicare innanzitutto la portata di questa ordinanza, i suoi effetti. Abbiamo qui il collegio legale che ha sostenuto il ricorso, abbiamo qui i comitati che fanno parte ovviamente dei ricorrenti, abbiamo qui l'ISD Italia che ha supporto dal punto di vista scientifico dei dati che abbiamo inserito in questa ordinanza. La cosa ovviamente importante è che a distanza di quattro anni, il decreto sblocca Italia è stato convertito in legge nel 2014, a distanza di quattro anni siamo riusciti, nonostante le battaglie, nonostante le raccolte di firme e le manifestazioni che abbiamo fatto, finalmente ad avere un primo significativo risultato. Il fatto che il Tarlazio ha riconosciuto, badate bene, ha riconosciuto la valenza delle nostre argomentazioni rispetto al contrasto evidente tra le norme contenute nello sblocca Italia e le direttive europee, in particolare, su due punti che poi gli avvocati sviscereranno. Il primo è la gerarchia di trattamento dei rifiuti, che è il più importante, per cui si dimostra che l'articolo 1, cioè il comma 1 dell'articolo 35, in cui dice, mi cito testualmente, che tali impianti, cioè il piano nazionale di incenerimento, tali impianti concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche, cioè stiamo parlando probabilmente di una affermazione azzardata, se non del tutto fasulla, primo perché non concorrono alla raccolta differenziata, anzi il contrario, la raccolta differenziata è quella che deprime l'incenerimento, perché se noi ovviamente, siamo riusciti a salire, credo, di 6 o 7 punti negli ultimi due anni e quindi questo è motivo di andare a chiudere qualche impianto di incenerimento perché notoriamente gli inceneritori sono alimentati soprattutto con i rifiuti non differenziati selezionati nei DMB che producono il CSS e il CDR. Quindi questa prima affermazione è sconcertante, tra l'altro siamo in presenza di un'Italia che è fuori legge rispetto alle sue stesse normative, siamo al 55% quando dal 2012 dovremmo essere almeno al 65%, le immagini che appunto io ho preparato erano esattamente queste e siamo in presenza di una normativa europea sull'economia circolare che dice esattamente l'opposto di quello che dice lo sblocco Italia. Se voi vedete l'immagine successiva, che credo conosciate tutti, il ciclo dell'economia circolare non menziona in nessuna fase, in nessun punto il recupero di energia perché è completamente escluso. Noi stiamo parlando di un paradigma che ci dovrebbe portare a recuperare la materia, non l'energia risultante dalla combustione della materia, perché se noi bruciamo la materia sottraiamo questa risorsa alla circolarità e dobbiamo ricostruirla e rimportarla. Quindi è evidentemente chiaro che il percorso che ha fatto l'Italia va nel senso opposto. Quindi mentre da un lato dice sì all'economia circolare, dall'altro ha fatto un provvedimento che contrasta esattamente queste cose. Ora, l'incenerimento come vedete, l'ISPRA ha attestato che siamo intorno a oltre i 6 milioni di tonnellate l'anno, il decreto sblocco Italia lo vorrebbe portare a quasi 8 milioni di tonnellate nonostante l'avanzamento della raccolta differenziata. E qui vedete i risultati che vi dicevo prima dell'avanzamento della raccolta nell'ultimo anno che però mediamente si attesta sotto il risultato di legge. Stiamo parlando del 52,5% contro il 47% dell'anno scorso, quindi la differenziata progredisce e gli inceneritori raddoppiano, cioè non si capisce questa cosa, è assolutamente incongrua. E questo sapendo che nella raccolta differenziata non c'è quello che hanno dichiarato nella legge 133, non c'è quella quantità, noi abbiamo con l'ingegnere Peggiardo Rosso dimostrato che quei conti sono sbagliati, sono completamente sbagliati, perché se voi vedete la composizione vediamo che non c'è tutta questa plastica da bruciare. Hanno messo il residuo secco della raccolta differenziata per una quantità pari al 10% dei rifiuti totali come materiale direttamente combustibile, senza pensare che qui al residuo secco si può recuperare l'80% delle plastiche e il recupero di materia è assolutamente prioritario. Lo vediamo in questa slide perché noi siamo in presenza ancora di questa vecchia descrizione della direttiva 98-2008 in cui parla di recupero di altro tipo, per esempio il recupero d'energia. Questa aggiunta che è stata frutto di compromessi con le lobby è stata superata tra l'altro nel 2010 col comma 6 dello stesso articolo 179 che dice che nel rispetto della gerarchia le misure dirette alla preparazione, al riciclaggio, ogni operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, lo dice chiaramente. E allora come facciamo noi adottare un programma di recupero di energia senza aver adottato un programma di riduzione, di riutilizzo e di recupero di materia soprattutto? Ecco, questa è la cosa che stride fortemente e noi siamo estremamente fiduciosi che la Corte di Giustizia Europea non potrà non tenerne conto. Vi segnalo tra l'altro che nel decreto legislativo 152 tuttora c'è un trucco numerico per cui gli inceneritori arrivano al 65% perché nell'allegato C c'è scritto semplicemente che il recupero di energia viene moltiplicato per 2,6, cioè basta avere un'efficienza energetica del 25% moltiplicata per 2,6 diventa 65%, cioè siamo veramente ai giochi delle tre carte su sta roba qui. Nessun impianto di incenerimento salvo Brescia che fa anche il recupero di calore, ma credo che sia l'unico in Italia, tutti gli altri hanno un'efficienza di recupero del 25-26%. Quindi siamo al di sotto della legge salvo questo trucco numerico. Su questa roba vogliamo dire due parole e chiudo. Il percorso rifiuti zero che voi vedete qui, noi riteniamo che sia il percorso di transizione ma non il paradigma. Il paradigma d'arrivo è l'economia circolare perché come vedete noi siamo in presenza ancora qui di una previsione di discariche temporanee, di un discorso di una riprogettazione ipotizzata, mentre nell'economia circolare questa ipotesi, scusate ho sbagliato a scorrere, l'ipotesi della riprogettazione è il primo passo dell'avvio perché se noi non cominciamo a cambiare le modalità e i materiali con cui costruiamo i beni e le merci attraverso dei procedimenti che rendano questi materiali riusabili, smontabili, riciclabili al 100%, noi avremo sempre quella massa di quel residuo secco non riciclabile che dovremmo portare in discarica quantomeno o recuperare prima di portarlo in discarica la parte delle plastiche ma qualche residuo c'è sempre, questo stiamo parlando dei materiali ma quando parliamo dei beni ingombranti, degli elettrodomestici, stanno nascendo fabbriche che li smontano, li riparano, stiamo assistendo a una riprogettazione di fatto ma è l'industria che ancora non cambia questo procedimento. Se una lavatrice si rompe dopo 5 anni metodicamente significa che l'obsolescenza programmata è ancora la linea guida che noi dobbiamo superare perché quella lavatrice se io voglio la devo poter riparare e riutilizzare ma mi è in condizione oggi di rendere più costosa la riparazione del ricomprare l'oggetto. E' questa la diabolicità di questo ciclo di sussistenza dell'industria che si basa su questo mercato di sostituzione come si dice, per cui dobbiamo vendere le lavatrici, dobbiamo vendere le macchine se non si rompono non le vendiamo, quindi facciamo in modo che si rompano a una determinata scadenza. Segnalo che rispetto alla campagna sullo sblocchio Italia abbiamo attivato e stiamo raccogliendo migliaia di firme in tutta Italia su questa campagna, cambiamo l'aria in cui diciamo che bisogna oltre che battere il degredo nelle aule giudiziarie cominciare a cambiare la mentalità nostra e delle forze politiche in questo Parlamento e nel Parlamento europeo rispetto al fatto che gli inceneritori vanno tassati come fossero di scariche perché sono impianti di fatto di smaltimento, non recuperano niente perché quello che recuperano lo sperperano già con l'immissione di combustibile per farli funzionare. Dobbiamo sicuramente superare una cosa gravissima in corso che è l'antitrust ha certificato l'anno scorso che il Conai copra appena il 20% dei costi della raccolta dei soli imballaggi, mentre 10 anni fa aveva la copertura integrale, l'ex ministro Matteoli ha cambiato queste due parole da copertura integrale a maggiori costi che significa che oggi i cittadini pagano il costo del recupero nell'oggetto quando lo acquistano ma ripagano coprendo anche l'80% dei costi che competerebbero ai consorsi che immettono gli imballaggi in commercio. Questa è una cosa scandalosa perché è grave sui comuni e poi sui cittadini perché evidentemente è chiaro viene scaricata sulla tassa ai rifiuti. Questo per dire che questa industria nociva e tossica e alcune lobby e alcune normative noi dobbiamo assolutamente superarle e questa ordinanza del TAR ci dà l'entusiasmo per riprendere con maggior vigore questa battaglia e insieme alle forze politiche chiediamo stamattina anche di cominciare ad approvare delle mozioni in questo Parlamento e nel Parlamento europeo per cominciare a smontare il decreto attuativo, a farlo ritirare il DPCM del 10 agosto. Galletti lo deve ritirare in presenza di questa ordinanza che riconosce già di fatto l'anteticità tra questo e le direttive europee che evidentemente sono quelle che comandano e poi andare a modificare tutta questa normativa. Io vi ringrazio, lascio la parola al professor Pernazza che è ovviamente l'artefice insieme al professor Cervo insieme della costruzione del ricorso principale e poi l'avvocato lauriemma che ovviamente ha aggiunto una parte significativamente importante anche in rappresentanza dei gomitati di Acerra e di Venafro che sono qui presenti. Prego.